Un magnate della Malesia potrebbe entrare nella compagine sociale del Bari Calcio. Due indizi fanno una prova. Durante la partita tra Bari e Cesena è apparsa nella zona centrale della Tribuna Est una bandiera della Malesia, mentre in curva nord gli ultra hanno esposto uno striscione di benvenuto inizialmente indecifrabile perché in malese. L'Arcano è legato alla trattativa già avviata tra l'attuale proprietà e Nordin, imprenditore vicino alle istituzioni governative della Malesia, già interessato a forme di collaborazione con la Lazio del presidente Lotito. Dalla società biancorossa non arriva alcun commento sulla trattativa, nulla da dichiarare, ma il club era da mesi in vendita con la Banca Popolare di Bari come advisor. Tra le ipotesi al vaglio delle parti c'è l'ingresso nel capitale sociale con una percentuale da concordare dell'imprenditore malese, ma ogni ulteriore particolare sarà più definito dopo l'espletamento della due diligence. A gennaio a Nordin, in visita al centro sportivo della Lazio a Formello, aveva così spiegato la rinnovata passione per il football in Malesia. Vogliamo ritornare ad essere un'eccellenza nel calcio? Anche il primo ministro malese la pensa come me.